Ehi ragazzi, questo è il risultato di uno dei membri della Damaged Coats. Questo che vedi qua è la linea superior, la linea più avanzata al mondo che è stata interamente realizzata dall'equipe che qua in Moldavia sta restituendo oltre 3.000 sorrisi ogni anno a persone che hanno perduto completamente i denti. Qua all'opera vedi la nostra Victoria che sta andando a finalizzare quello che è il bilanciamento, possiamo dire, dell'occlusione e abbiamo nello specifico un'arcata tutta realizzata in zirconio e ceramica stratificata. Si vanno a verificare su degli articolatori a parametri semi-individuali quelli che sono i punti di contatto della bocca del paziente. si può andare a simulare sia l'apertura, la chiusura che anche i movimenti di lateralità come hai appena visto. Quello che si va poi a fare è una struttura che simula a livello di comportamento fisico quelli che sono i tessuti naturali dei nostri denti. Abbiamo una struttura in più di rinforzo interna sui quali vengono fissati i denti, in questo caso in zirconio e verranno poi questi andati a fissare in maniera avvitata sopra agli impianti dentali. Tieni conto che ci sono delle truffe all'estero di cliniche che invece incollano le arcate sugli impianti dentali, fai attenzione perché quello non è il protocollo internazionale. Questa poi ha la gengiva che simula i tessuti perduti della bocca del paziente, dovranno essere glasate anche le gengive, ti mostrerò sotto a questo posto quello che è il risultato finale. Un saluto da Dottor Palmas, qui da Vika e Dima e da Inga. Inga sta venendo con noi a febbraio, ci vediamo mi raccomando il 29 di novembre perché vi stiamo facendo vedere delle cose fantastiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti.